Che stai facendo? Un sono Che cosa cerchi? Un giochino Come ti chiami? Siamo Dove ti trovi? Al lavoro E come vivi? Un sono Di dove sei? Lombardo Qual è il tuo aspetto? Me lo fateci per un tempo, ma non per questo in grande A cosa pensi? Allo stipendio Qual è il tuo impegno? A questa paglia Hai tutto il tempo? Uff Che risultati hai? Solo bassi Che risultati hai? Alte e bassi I do di mezzo, solo, tutto ciò che vivano a le ore Che io gioco Tanto, 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 tanto Rido. Quando sei in forma? Rido. Innamorato? E di chi? E lui ti ama? Un po'. Come va di essere? Male. E come va di essere? Bene. Che dice il cielo? E letto. E la punzonatrice? Punzona. Sei felice? A poco. Hai distrazioni? Il wrestling. E chi ti piace? John Cena. E la punzonatrice? Punzona. Cosa ti piace? Punzonare. Tra dire il fare? Il voltino. Cosa ti piace? Punzonare. Tra dire il fare? Il voltino. Cosa ti piace? Punzonare. Tra dire il fare? Il voltino.